Mister dell'Aquila, mister Bolzan, allora mister un finale davvero incandescente, in tre minuti avete ribaltato una partita che seppur nel primo tempo avete creato tanto si era messo un po' per il verso sbagliato. Sarebbe stato difficile spiegare una sconfitta dopo tutto quello che è successo nel primo tempo, ma sono felice perché vedo i ragazzi felici, perché sono soddisfatti, perché penso che si abbia costruito in quest'ultimo periodo la mentalità giusta, una mentalità vincente. Tante squadre dopo un 2-0 così si scompongono, magari iniziano a cercare i lanci lunghi, perdono le distanze, invece loro hanno continuato a insistere su quello che noi alleniamo, su quello che noi pensiamo e quindi hanno ribaltato la partita giocando a calcio e questo per me è una soddisfazione molto grande. Siete rientrati negli spogliatoi a fine primo tempo, sapendo che il Chieti era avanti 2-0, quanto è stato difficile ripartire con la mente un po' scombra? No, io sinceramente non sapevo, noi non abbiamo mai parlato del Chieti, noi dopo che abbiamo perso lo scontro diretto abbiamo detto di continuare a lavorare, di continuare a insistere, di finire bene perché giustamente l'Aquila Calcio si merita una squadra che giochi bene, che proponga calcio, che faccia un calcio importante e quindi noi pensiamo solo a noi e andiamo avanti partita per partita.